Licenziati con una mail il 30 aprile scorso alla vigilia della festa dei lavoratori, un annuncio beffardo per 40 operatori sociosanitari dell'ASL Lanciano Vastochieti. Eroi usa e getta è scritto su uno dei cartelli della protesta di questa mattina a Pescara sotto il palazzo dell'assessorato regionale alla sanità. Le voci giravano sul fatto che molto probabilmente saremmo andati a casa ma nella commissione di vigilanza al 31 marzo era stato messo agli atti che nessuno avrebbe lasciato il posto di lavoro anche interinale. Poiché molti di noi hanno partecipato alla pandemia, sono stati impegnati, tutti quanti siamo stati impegnati nella pandemia, nei reparti Covid anche. Avete avuto delle spiegazioni come mai nonostante questa messa agli atti siete stati licenziati? No, nessuna spiegazione. Ci siamo esposti tutti i giorni, abbiamo fatto straordinari, abbiamo coperto i turni di persone operai come noi che comunque si sono infettate lì dentro in pronto soccorso nei vari reparti. Quindi non mi sembra una cosa giusta nei riguardi di 40 famiglie a casa. Abbiamo fatto dei turni massacranti, abbiamo lavorato mesi senza riposi, con delle tute, queste tute qui, impossibilità di in un turno intero di 7 ore o di in un notturno di 10 ore di non poter andare neanche al bagno, di non poter fare assolutamente nulla. Però l'abbiamo fatto tutto con il cuore e tutto con amore. Sempre in mattinata una delegazione di lavoratori, con il vicepresidente della Commissione Sanità della Regione Abruzzo, Francesco Taglieri, e i consiglieri regionali Pietro Smargiassi e Silvio Paolucci, è stata ricevuta dall'assessore Nicoletta Verì. La notizia è che il 12 maggio ci sarà un incontro con i vertici dell'Asla Teatina, in cui verrà chiesta la possibilità di verificare la riapertura dei termini per l'avviso pubblico. Tuttavia l'orizzonte non è roseo, sia perché la Regione deve rispettare i tetti di spesa, sia perché c'è il timore che possano ripetersi altri licenziamenti alla chiusura dei contratti interinali.